E, e, venite su Warcomontana, tutti quanti che giocano bene sono pro! Ragazzi, se voi donate, avrete cose belle in cambio. Per esempio, la D di donatore, guardate, lui ha donato 3.000 euro a qualche tank. E questa è la D che ha voluto come prima. Oh, che bella! E lo sapete? Chi di voi citta, verrà bannato! A voi la scelta, Toh. Vi bagniamo per hardware, sapete? Yahoo, 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 yahoo. Noi lasciamo in Kyber Corner, facciamo i pro di Es. Ma su Montana ci sono tutte le armi pure, Lady Bomb ti sciotterà. Su via venite qui a firmare per le donazioni.